Buonasera, buon anno a tutti, ben ritrovati. Iniziamo il 2015 con una coppiata di opere non di frequente esecuzione, anzi di rara, nel caso di Goyescas di Enrique Granados, con Suor Angelica di Puccini, in qualche modo proseguendo quello che è già stato fatto nella scorsa stagione con Tragedia Fiorentina e Gianni Schicchi, quindi un abbinamento insolito, senz'altro. Due opere sostanzialmente coeve, quella di Granados ha debuttato nel 16, quella di Puccini nel 18, entrambe peraltro al Metropolitan di New York, in Europa eravamo in guerra. Detto, dati questi parametri, diciamo, le opere sembrerebbero non avere nulla in comune, e probabilmente è vero, però è anche vero che entrambe in qualche modo, ritengo, ci parlano intanto di una situazione femminile particolare, e anche sotto quest'ottica il regista di questa produzione che Andrea De Rosa ha voluto sottolineare questo aspetto, e anche di due, come dire, due lati della passione, quella carnale, sentimentale, ambientata in una Spagna idealizzata alla Goya, e quella invece, diciamo, spirituale per il contesto in cui si svolge, ma soprattutto di amore filiale. Se conoscete l'opera, come credo, sapete in che senso, ma ce ne parlerà molto più approfonditamente Susanna Franchi, che, come sapete, è redattrice della Repubblica, ed è caporedatrice del giornale della musica, voce di Radio 3 e quant'altro, e che torna felicemente a questi microfoni, la ringrazio, e anzi, visto che abbiamo avuto qualche ritardo dovuto a cose tecniche, le cedo subito la parola. Grazie. Grazie Simone, buonasera. Comincio con una protesta, nel senso che tutti i relatori, prima di me, avevano un'ora e mezzo di tempo per presentare un'opera, io due in un'ora e mezzo, quindi comincio formalmente protestando. Sono due atti unici, però, insomma, rispetto a presentare il Parsifal in un'ora e mezzo, diciamo così. Allora, i punti di contatto li ha già, giustamente, sottolineati Simone Solinas. Goyescas, temporali, nel senso che Goyescas è del 1916 e Suorangelica del 1918, entrambe al Metropolitan, entrambe declinano una storia di amore e morte, entrambe hanno due personaggi femminili forti. Non vi dirò niente sulla vita di Giacomo Puccini, però almeno qualche cosa sulla vita di Enrique Granados va detta, perché non è compositore così noto come Puccini. Era nato il 27 luglio del 1867 a Lerida, da un padre cubano e da una madre spagnola. Da piccolo va a Barcellona e studia il pianoforte, comincia vincendo dei concorsi, va a studiare anche a Parigi e studia anche un po' da autodidatta, studia con insegnanti diversi. Della triade di compositori spagnoli di quel periodo, cioè Albeniz, Granados e Manuel de Faglia, la divisione era sempre quella sul fatto che lui fosse quello meno tecnico, ma fosse quello più bravo come improvvisatore e diciamo come sentimento compositivo. Almeno Pablo Casals, il grande violoncellista che ha avuto modo di suonare in duo con Granados, ripeto Granados era un grandissimo pianista, diceva che era il più geniale, il più originale e il più delicatamente poetico dei tre compositori spagnoli. Granados suona in duo, per esempio, con Camille Saint-Saën, tiene delle tournée in tutta Europa come pianista ed è considerato come pianista una sorta di sintesi dei grandi romantici, cioè Granados si rifà alla tradizione di Chopin, alla traduzione di Grieg, alla tradizione di Schumann. Poi aveva una passione folle per Wagner, raccontano che ascoltando il Tristano Isotta Granados piangesse e che quindi quando ha cominciato a comporre opere e zarzuela tutti dicevano si sente Wagner e si sente la tradizione spagnola. In Europa era molto conosciuto, era molto più conosciuto di Albenitz, la sua musica veniva molto eseguita, ad esempio in Russia il grande compositore Cui era un suo estimatore e Granados dedicò a cui alcune sue composizioni, alcune danze spagnole. Goyescas nasce come pagina pianistica, sono due libri di composizioni per pianoforte, il primo libro venne eseguito per la prima volta nel 1911 a Barcellona, eseguito dallo stesso Granados, il secondo invece nel 1914 alla Salpleiella a Parigi e gli valse addirittura la legion d'onore. Compositore versatile e assolutamente incredibile per quanto riguarda l'ispirazione poetica, ha scritto 11 opere, zarzuelas, musica da camera, la sua opera più famosa, diciamo così, prima di Goyescas è Maria del Carmen, che anche qui ha una storia, un triangolo di amore che però poi finisce bene, tanto per darvi un'idea delle ispirazioni poetiche, ha scritto un poema sinfonico sulla Divina Commedia, un'opera su Petrarca, che non è mai stata rappresentata, che racconta la storia di amore di Petrarca per Laura. Un'altra opera che aveva dei temi simili, diciamo così, a quelli del Faust, nel senso che era un intellettuale, un pianista che leggeva, che frequentava salotti, che frequentava poeti, e quindi aveva moltissime fonti di ispirazione. Ha scritto, oltre alla grande composizione pianistica, delle tonadiglias, oltre alle Goyescas, dei lead spagnoli, diciamo così, che si chiamano Canciones Amatorias, che sono veramente un capolavoro di musica vocale. Fondò anche un'accademia a Barcellona, un'accademia per studenti, non soltanto di pianoforte. Allora, cominciamo ad ascoltare l'inizio di Goyescas, l'opera. Poi vi racconto come dal pianoforte è arrivato all'opera. Ascoltiamo l'inizio di Goyescas, è un'esecuzione dell'orchestra della Ciudade de Barcellona, diretta da García Navarro. Granados amava moltissimo la musica di Scarlatti, e aveva pubblicato 26 sonate di Scarlatti, era pittore dilettante, e amava moltissimo anche la pittura di Goya. Aveva cominciato a guardare alcuni quadri di Goya e pensare a un'ispirazione appunto per una composizione pianistica. E così nel 1911, si erano celebrati anche i 150 anni della nascita di Goya, Granados scrive questo primo libro di Goyescas, cioè di pagine ispirate a quadri di Goya. Sono delle pagine pianistiche con un titolo preciso, in alcuni casi si rifanno a precisi quadri di Goya. I titoli che vi leggo in italiano, perché il mio spagnolo non è così perfetto, sono i complimenti, il colloquio alla grata, il fandango alla luce delle candele, il compianto, la donna e l'usignolo, l'amore e la morte, la serenata dello spettro, e il fantoccio. Quasi tutti, non la serenata dello spettro, ma quasi tutti questi brani diventeranno poi appunto l'opera Goyescas. Granados presenta queste composizioni, come vi dicevo, prima a Barcellona, poi a Parigi, e hanno un successo straordinario. E il pianista americano Ernest Schelling gli dice, ma perché da queste musiche bellissime non componi un'opera? E era un po' di tempo che Granados pensava che questa cosa si sarebbe potuta realizzare, e quindi decide di orchestrare e strumentare questi brani intorno a una storia operistica. La cosa bizzarra è che lui prima ha composto la strumentazione e l'orchestrazione dell'opera, poi ha chiesto a Fernando Periché di scrivere il libretto di quest'opera. Il librettista, dopo aver scritto questo libretto, scriveva, ritengo che la trama di un'opera debba essere così semplice da essere alla portata di un bambino, non ho mai scritto una storia così semplice come quella di questo libretto. E in effetti la storia è assolutamente semplicissima. Ci sono quattro personaggi, per tre di questi personaggi esplicitamente Granados si rifà a dei quadri di Golia, che adesso noi vi facciamo vedere. Allora, il primo quadro è il Pelele. Il Pelele significa il fantoccio. In questo primo coro i coristi, che sono ragazzi, Mahos e Mayas, ragazzi e ragazze alla periferia di Madrid, giocano a questo gioco con il fantoccio. Vedete, questo è il quadro di Golia. Il gioco consiste nel lanciare questo fantoccio con un lenzuolo e poi riprenderlo. Questa era proprio la scena che abbiamo ascoltato. Alcune, lo vedrete anche nello spettacolo che va in scena da domani, alcune donne lanciano questo fantoccio. Il personaggio femminile di Rosario, la nobile donna, è ispirata alla Duchessa d'Alba. La Duchessa d'Alba è stata ritratta moltissime volte da Golia, Duchessa d'Alba vestita di bianco, Duchessa d'Alba vestita di nero, e invece per Pachiro, il torero, l'ispirazione, sapete quanti disegni ha fatto Golia sulla Tauromachia e sui toreri, l'ispirazione del personaggio del torero di Pachiro è quella del torero Martincio che c'è in moltissimi disegni di Golia. Il personaggio del capitano di Fernando che è l'amante di Rosario è ispirato direttamente a Golia e quindi vi facciamo vedere Golia fece molti autoritratti si fece molti autoritratti e quindi ve ne facciamo vedere ben tre e anche nello spettacolo di Andrea De Rosa che vedrete al Regio il personaggio ha i tipici riccioli che aveva Golia è stato proprio diciamo pettinato esattamente nello stesso modo di Golia quando si parla di Golia l'immagine che tutti noi abbiamo è quello della Maha desnuda e della Maha vestida e in questo allestimento Rosario entrerà in scena su una portantina su una sorta di dormeuse come quella sulla quale è distesa la Maha vestida e alla fine invece sarà per alcuni secondi anche come la Maha desnuda adesso vi facciamo vedere anche Granados dicevo era un pittore dilettante ed era molto appassionato di Golia e scrive dopo aver composto Goyescas ho concentrato tutta la mia personalità in Goyescas mi sono innamorato della psicologia di Goya e della sua tavolozza della sua aristocratica maia di lui della duchessa d'alba dei suoi litigi degli amori delle galanterie quel roseo biancore delle guance che contrasta con pizzi e velluti neri quelle figure dal seno alto con mani madreperla e gelsomino che si distendono sopra un tessuto nero mi hanno folgorato allora vi racconto la trama semplice ma con alcuni particolari importanti di quest'opera siamo alle porte di Madrid vicino nella prateria diciamo così nello spiazzo che c'è davanti alla chiesa di Sant'Antonio della Florida vicino al Manzanarre il Manzanarre è quello del 5 maggio da Manzanarre a Reno è il fiume che c'è alle porte di Madrid scritto nel libretto donne e uomini giocano scherzano danzano fanno appunto questo gioco del pelele il lancio per aria di questo fantoccio e le donne ridono dicendo che fanno delle battute sul fatto che spesso l'uomo venga trattato come un fantoccio lanciato per aria e poi appunto così ripreso c'è il torero pacchiro abbiamo visto appunto il riferimento al torero martincio che si pavoneggia facendo così un po' il galletto e corteggiando le donne che ci sono però gli rispondo non sappiamo benissimo che sei fidanzato con Pepa che è la tua donna e Pepa arriva su un calesse e viene festeggiata e corteggiata da tutti quanti poi invece arriva una lettiga e inizialmente Goyescas che ha come sottotitolo i magos innamorati i ragazzi innamorati doveva avere come sottotitolo bussole e calessi nel senso che si voleva sottolineare la differenza tra Pepa donna del popolo che arrivava con un calesse e invece Rosario la nobile donna che arrivava con una bussola poi in realtà pare che proprio perché Granados non volesse che questa connotazione sociale fosse troppo sviluppata questo sottotitolo venne tolto arriva questa lettiga e ci sono dei servi che portano la nobile donna Rosario e tutti si stupiscono che una nobile donna sia diciamo così fuori porta o in periferia di Madrid Rosario ha lì un appuntamento con Fernando che è il capitano delle guardie e che è il suo amante e però lei non lo vede ancora quindi si guarda attorno un po' preoccupata e si avvicina Pacchiero il torero che le ricorda che una volta si erano conosciuti al baile del candil il baile del candil sarebbe il ballo al lume della lanterna della luce delle candele erano dei balli che si tenevano anche questi fuori porta cioè non in centro ma in periferia ed era diventata un po' una moda che i nobili travestiti da poveri diciamo così o da persone normali andassero a vedere questi balli che faceva la gente popolare diciamo così la gente normale e appunto in un'occasione di queste Pacchiero aveva conosciuto Rosario Fernando che sta arrivando ha sentito questo riferimento di Pacchiero a un precedente loro incontro e subito scatta la sua gelosia ma Rosario cerca di tranquillizzarlo dicendogli che lei è venuta per un appuntamento con lui che non c'è assolutamente nulla con questo uomo e anche Peppa è irritata da questo incontro di Pacchiero con Rosario a questo punto Pacchiero si avvicina nuovamente a Rosario e le dice c'è un baile del Candil di nuovo perché non vieni con me a questo ballo a questo punto Fernando si secca ancora di più di quanto la sua gelosia fosse esplosa nella frase precedente dice sì verremo tutte e due se lei viene al ballo vengo anch'io l'accompagno e allora Pacchiero risponde va bene allora ci parleremo poi quando ci vedremo al ballo e c'è una frase che per gli appassionati di libretti e per gli appassionati di bohème ha qualche cosa da dire colui che ama scorge sempre delle ombre dice Fernando giustificando la sua gelosia è come all'uomo felice sta il sospetto accanto nella bohème dice Rodolfo cioè in quel momento lì nel quale ancora non è successo nulla però per lui questa felicità è già incrinata da questo sospetto della gelosia Fernando e Rosario si allontanano e tutti riprendono il gioco del pelele e le loro danze a questo punto c'è l'intermezzo l'intermezzo non fa parte delle pagine pianistiche di Goyescas perché è stato composto appositamente per l'opera pare che proprio prima della prima al Metropolitan l'impresario avesse detto avesse chiesto a Granados di comporre questo intermezzo per fare un po' stacco dal primo al secondo quadro questo intermezzo è famosissimo magari non sapete che è di Goyescas ma è l'unica pagina sopravvissuta diciamo autonomamente all'opera che viene spesso anche eseguita in sede di concerto noi l'ascoltiamo eseguita dall'orchestra di Cadaqués diretta da Gianandrea Noseda pagina bellissima questo intermezzo che è ispirato a una danza la Hota che è una danza aragonese e inizialmente appunto Granados era un po' dubbioso cioè ha detto perché quando l'impresario del Metropolitan gli chiese di inserire questo intermezzo lui come dire aveva un po' degli scrupoli di aver inserito questa danza aragonese in un'opera che si svolge a Madrid e Casals gli ricordò però che le ascendenze di Goya erano appunto aragonesi e che quindi era autorizzato ad utilizzare questo tipo di danza è una pagina bellissima che comincia appunto con i violoncelli e nelle quali poi avete sentito anche il flauto i carinetti flauto che poi nel finale dell'opera avrà un'importanza notevole questo intermezzo che separa il primo quadro dal secondo nel secondo siamo in questo capannone dove si svolge il baile del candil e dove nuovamente ragazzi e ragazze del popolo stanno ballando il fandango entra fernando abbastanza spavaldo insieme a rosario rosario invece è abbastanza impaurita perché ha capito che la situazione può andare a finire male e siccome questo fare altezzoso di fernando dà fastidio agli altri comincia non può rispondergli cominciano a prendere in giro rosario comincia ad avere sempre di più paura pachiro si avvicina a fernando i due si danno appuntamento per un duello alle nove davanti al prado rosario ha paura e sviene gli altri rimangono interdetti diciamo da questo svenimento quindi la danza si ferma fernando aiuta rosario a rialzarsi e vanno via e riprende la danza pepa invita tutti a ballare nuovamente ascoltiamo proprio brevemente questo finale del secondo quadro che è questo fandango perché anche qui come nell'inizio dell'opera la capacità di granados è proprio quello di raccontarci molto bene l'atmosfera e il clima di quello che si sta svolgendo in questo fandango dicono una cosa molto divertente che la maha la donna deve fare tre cose deve saper fare tre cose saper tirare i capelli perché litigavano molto tra donne quindi si tiravano i capelli saper amare e dimenticare chi l'ha dimenticata che sono come dire la lezione di vita di pepa e delle altre donne ascoltiamo il fandango il finale del secondo quadro di Goyesca Scolorchestra di Cadaqués diretta dal maestro Gianandrea Noseda avete sentito c'è un ritmo popolare di danza il fandango appunto sul quale si inseriscono queste voci di sfotto e di racconto dei ragazzi e delle ragazze poi qui finisce il secondo quadro dell'opera c'è un breve interludio e comincia l'ultimo quadro quadro notturno completamente al buio nel giardino di Rosario c'è la luna e Rosario ascolta il canto di un usignolo e comincia a riflettere sul fatto che questo usignolo forse canta per amore canta per un amore lontano per un amore felice o per un amore infelice insomma che si canta sempre d'amore e diciamo così la sua voce si intreccia con quella dell'usignolo che ovviamente in orchestra è rappresentata dal flauto e Rosario canta il suo dolore la sua preoccupazione perché è preoccupata per quello che potrà succedere tra Pacchiro e Fernando e appunto dice non c'è canto senza amore arriva Fernando e Rosario cerca di convincerlo della sua innocenza dicendogli che la sua gelosia è assolutamente ingiustificata che lei ama soltanto lui vive soltanto per lui si sentono battere le ore e passa Pacchiro avvolto nel suo mantello come avviene anche in moltissimi quadri di di Goya Fernando se ne accorge si gira si libera proprio dall'abbraccio di Rosario e dice che ha da fare che deve andare via ma che poi tornerà quindi si allontana e Rosario lo segue noi non vediamo non si vede nel libretto il duello sentiamo rumori di voci sentiamo rumori di spade e vediamo però rientrare in scena Fernando ferito e Rosario che lo sostiene vanno sulla stessa panchina dove prima si erano salutati e Rosario lo abbraccia lo bacia cerca di sostenerlo e di rinfrancarlo Fernando le dice addio e Rosario continua a baciarlo e poi dice ma perché non mi rispondi più e si rende conto che Fernando è morto e quindi l'opera si conclude con la morte di Fernando e la disperazione di Rosario vi racconto ancora la prima esecuzione di quest'opera e quello che è tristemente successo dopo Granados scrive quest'opera che deve essere rappresentata prima in Spagna però non si riesce ad organizzare e poi invece a Parigi la prima doveva tenersi a Parigi siamo durante la prima guerra mondiale e Parigi dice non possiamo mettere in scena quest'opera l'unica possibilità di metterla in scena è il Metropolitan 26 gennaio 1916 l'opera va in scena al Metropolitan pensate che è la prima opera in lingua spagnola che va in scena al Metropolitan viene abbinata ai Pagliacci 5 recite con un grandissimo successo ci sono ancora adesso si trovano anche su internet le intere pagine pubblicate da New York Times di presentazione e di recensione dell'opera Rosario era Anna Fizio Peppa era Flora Perini Fernando era Giovanni Martinelli e Pacchiro Giuseppe De Luca dirigeva Gaetano Bavagnoli le recensioni e le presentazioni sono di grande entusiasmo per questo compositore che era arrivato in America il New York Times scrive che è un'opera nella quale si percepisce un profondo sentimento nella quale c'è un intenso colore nazionale ci sono approfondite descrizioni dei costumi spagnoli approfondite descrizioni del fatto che ad esempio la scena del baile del Candil assomigliasse molto alla taverna di Lilla Spastias nella Carmen è un successo incredibile Granados scrive a un amico alla fine ho visto il mio sogno realizzato è vero che comincio ad avere i capelli bianchi ma sono pieno di entusiasmo sogno Parigi e ho un sacco di progetti che cosa succede? succede che grazie a questo successo il presidente americano Woodrow Wilson desidera conoscere questo compositore quindi invita Granados a suonare per un resi dal pianoforte alla Casa Bianca Granados è lusingato da questo invito aveva Granados era andato in America con la moglie Amparo avevano sei figli che erano rimasti in Spagna Granados aveva già comprato il biglietto per una nave che da New York lo avrebbe riportato in Spagna siccome ha questo invito alla Casa Bianca cancella il suo biglietto su questa nave che doveva portarlo direttamente in Spagna e non riesce a trovare un'altra nave che facesse il tragitto diretto per andare in Spagna quindi prende una nave che lo porta fino in Inghilterra e dall'Inghilterra prenota un'altra nave che lo avrebbe portato da Folkestone a Dieppe in Francia e da Dieppe in Francia a Madrid sarebbe andato in treno va a suonare alla Casa Bianca successo straordinario dopodiché appunto fa questo percorso New York a Folkestone a Folkestone prende il Saxex e il 24 marzo del 1916 preciso per gli scaramantici che aveva scritto prima di partire per l'America a un amico sono convinto che in questo viaggio ci lascerò le penne il 24 marzo del 1916 il Sussex che è la nave sulla quale Granados è insieme alla moglie Amparo viene colpito da un missile sparato da un sottomarino tedesco Granados riesce a salire su una scialuppa di salvataggio ma la moglie non riesce a salire su questa scialuppa quindi mentre sulla scialuppa di salvataggio in mare Granados che aveva sempre dichiarato una paura folle per l'acqua vede la moglie nuotare quindi lui si getta dalla scialuppa di salvataggio cercando di salvarla i due non riescono a risalire sulla scialuppa di salvataggio e Granados e la moglie muoiono per l'affondamento del success appunto quindi Goyesca si è tragicamente legata alla storia di questo compositore rimane ovviamente la sua ultima opera i sei figli vennero affidati a dei parenti e la cosa diciamo così curiosa è che mentre il figlio Edoardo fece anche lui il compositore il figlio Enrique Junior divenne un campione di nuoto voi pensate forse appunto questa storia lo aveva ovviamente particolarmente colpito ed è diventato un grandissimo campione di nuoto il brano che avrei voluto farvi ascoltare e che forse Simone dammi dell'esperanza andiamo su internet proviamo allora io intanto ve lo racconto non sono in grado né di suonarvelo pianoforte né di cantarvelo però insomma almeno questo forse riusciamo a farlo allora come dicevo questo brano finale l'aria del soprano la signora è l'usignolo in questo clima notturno nasce per il pianoforte e leggenda vuole che Granados avesse ascoltato un motivo simile a questo a Valencia cantato da una da una ragazza per la strada si fosse ispirato a questo a questo tema e avesse dedicato poi appunto questo brano alla moglie Amparo questo brano diventa poi l'aria più importante del soprano nel finale dell'opera e appunto il flauto e la voce dell'usignolo che dialoga insieme a quella del soprano lo ascoltiamo cantato nella versione registrata dal maestro Noseida così almeno qualche cosa ci salva e poi qualche cosa musicalmente viveremo allora ascoltiamo la scena decima dal cd con il maestro Noseida e l'orchestra di Kadakes la Maya e il russignore ascoltiamo quest'aria la traccia 10 e l'apertura del quadro e la romanza allora che musica vi ha fatto venire in mente Besame Mucio allora avrei voluto farvi sentire Besame Mucio ma purtroppo non posso Besame Mucio composta nel 1940 dalla cantante cantautrice messicana Consuelo Velasquez a riprende esattamente questo stesso motivo per stessa dichiarazione della compositrice che disse dopo aver ascoltato questo brano mi venne in mente di comporre Besame Mucio la cosa bizzarra è tipo per esempio l'altro giorno qui a Reggio durante le prove una prova è finita proprio esattamente alla fine di quest'aria e dopo in palcoscenico tutti cantavano Besame Mucio avrei voluto farlo da sentire la versione al pianoforte avreste sentito immediatamente come Besame Mucio prende ispirazione a questo insomma diciamo al di là dell'omaggio di Consuelo Velasquez è una pagina bellissima una pagina che alcune cantanti mi ha raccontato maestro Renzetti portano alle audizioni ma ovviamente essendo l'opera così poco rappresentata è una pagina poco conosciuta l'opera dicevo ebbe questo grande successo in America Manuel De Faglia scrisse delle cose bellissime su quest'opera e alla scala arrivò il 28 dicembre del 1937 con Cloelmo che interpretava il ruolo di Pepa e Maria Carbone che interpretava invece il ruolo di Rosario venne girato in Spagna un film sull'opera con Imperio Argentina che interpretava il ruolo di Rosario poi è stata abbastanza dimenticata nel 1963 Claudio Abbado l'ha diretta a Firenze nel 2002 la Fenice ne ha proposta con i complessi di Barcellona un'esecuzione in forma di concerto questa è un'esecuzione anche di Barcellona dei primi anni del 2000 nel 2003 è stata proposta non si sa perché in forma di concerto in Colorado quest'anno l'opera di Madrid la eseguirà abbinata a Gianni Schicchi con una scelta bizzarra però nel senso che verrà eseguita in forma di concerto mentre invece Gianni Schicchi e lo stesso personaggio lo stesso interprete cantante che qui canta Fernando la canterà anche all'opera di Madrid viene abbinata a Gianni Schicchi a Madrid tutto questo succede a maggio Gianni Schicchi viene proposto invece nella versione con la regia di Woody Allen e Gianni Schicchi viene interpretato da Placido Domingo abbiamo speranze per Suolangelica perfetto allora archiviamo Goyescas con un compito a casa cioè andate a sentire una registrazione di Besame Muccio e sentite il riferimento immediatamente a questa bellissima aria di Granados per un compositore comporre per un compositore come Puccini soprattutto l'ansia l'angoscia diciamo così lo stress costante era quello di trovare un soggetto Puccini non era mai tranquillo non era mai felice rilassato se non aveva qualche cosa da fare e la cosa bizzarra prima di arrivare a Suorangelica cioè un'opera su soggetto religioso e il lungo cammino di Puccini su questo argomento cioè su un tema religioso nel 1903 aveva chiesto a Valentino Soldani di scrivere un libretto sulla vita di Margherita da Cortona Margherita da Cortona è una santa la cui leggenda e la cui storia è quella di una concubina che siccome il suo amante era stato ucciso si pente della sua vita come concubina e quindi si dedica ad aiutare gli altri e questo soggetto per un po' interessa Puccini poi però non è contento del libretto e la sua frase a Soldani è che bisognava poetizzare e lirizzare quello che aveva scritto e quindi viene abbandonato nel 1904 scrive a Illica che gli sarebbe piaciuto trarre un'opera da Notre Dame di Victor Hugo e questa lettera è bellissima perché nella lettera Puccini dice quello che aveva già in mente voleva descrivere la notte a Notre Dame il buio della chiesa con un canto di fanciulli nel 1911 scrive a Roberto Bracco alla ricerca di un soggetto ancora una volta per un'opera a leggi voli fantastichi tra fiori e bimbi fiori e bimbi e siamo già dentro su Arangelica sempre nel 1911 gli propongono un altro libretto tratto da un testo di Gerard Hauptmann L'ascesa al cielo di Annele una storia tristissima di un'orfanella che per sfuggire a un patrigno violento cade in un fiume si ammala in ospedale ha delle visioni e tra queste visioni ha le visioni del redentore del maestro che lo possono aiutare e Puccini però è scettico su questo miracolo e su questa visione e rinuncia l'anno dopo poi Hauptmann avrebbe vinto il premio Nobel 1912 l'incontro famosissimo con Gabriele D'Annunzio per la crociata degli innocenti la crociata degli innocenti è un fatto realmente accaduto nel 1212 quando una serie di fanciulli e di bambini vennero convinti a partire per le crociate per aiutare i genitori che erano lontani questa crociata ebbe una pessima realizzazione nel senso che questi ragazzi non arrivarono mai in Terra Santa molti di loro che arrivarono a Marsiglia per esempio furono venduti come schiavi addirittura si pensa che la leggenda del pifferaio di Hamelin si ispiri a quello nel senso dei ragazzi che sono portati fuori dalla città lettere con D'Annunzio incontri con D'Annunzio il libretto non nasce e quindi nessun soggetto religioso arriviamo al 1917 quando il lavoro per il trittico è iniziato per trovare questi tre pannelli diversi e Giovacchino Forzano propone a Puccini il soggetto di sua Rangelica e racconta Forzano ignoravo che Puccini avesse una sorella monaca il soggetto gli piacque tanto e quindi decise di Puccini di accettare questo soggetto da Giovacchino Forzano e di musicarlo la sorella Eginia di Puccini era madre badessa con il nome di Giulia Enrichetta al convento di Vicopelago e per quello Puccini era molto attento anche a quella diciamo così che era la vita monastica come già era successo in Tosca Puccini non solo era attento alla vita monastica ma voleva in musica una musica religiosa diciamo così che avesse delle precise basi per la Tosca erano le lettere a Don Pietro Panichelli su qual era la tonalità del campanone di San Pietro a Roma in questo caso il primo maggio del 1917 Puccini scrive sempre all'amico Don Pietro Panichelli scrivo un'opera claustrale o monacale mi occorrono diverse parole latine ad hoc la mia scienza non arriva fino al cielo vostro dunque metterò alcune parole delle ditanie per esempio turris e burneam non mi ricordo ma invece dell'ora pro nobis ho bisogno di un'altra risposta esaltante anch'essa la vergine per metterti in trance ti dirò che c'è un'apparizione della Madonna la quale è preceduta da canti di angeli da lontano e voglio litanie e alcune frasi delle medesimi dunque niente prega per noi ci vuole un'nostra regina oppure uno santa delle sante ma una cosa da ripetersi uguale in latino pensa che sono gli angeli che magnificano Maria poi al momento del miracolo vorrei la marcia reale della Madonna non mi va tanto l'ave maristella e neppure l'ave maria che ho già fatto cantare alle monache quindi ti prego di aiutarmi e quindi don pietro panicheli cominciò a cercare quella che avrebbe potuto essere il testo che viene cantato nel finale nel miracolo Forzano scrive a Tito Ricordi sempre in quel maggio del 1917 non è un'impressione causata dal fatto che il libretto sia mio e proprio perché a me sembra e non solamente a me essere questa almeno fino ad ora la musica più alta e più semplice sembrerebbe un controsenso scritta da Puccini non sono tantissime le lettere tra Forzano e Puccini sulla creazione di Suor Angelica perché Puccini era a Torre del Lago Forzano stava a Viareggio quindi si incontravano più che scriversi ma alcune sono molto divertenti durante il giugno di quel 1917 durante la composizione Forzano scrive a Carlo Clausetti impresario e musicologo e librettista Suor Angelica minaccia di diventare una grande madre badessa delle opere e c'è un po' scritto molto divertente di Puccini che scrive anche lui in questa lettera a Clausetti mi cadono le spoglie come alle serpi lisce mi spoglio e si capisce per poi tu farmi il mar e tu rimani al seggio Tito dove andrà l'Angelica è in arpeggio lo schicchi aspetta già perché come sapete la composizione di Suor Angelica e di Gianni Schicchi andò per un certo periodo parallelamente sul tavolo di Puccini Suor Angelica è finita il 14 settembre del 1917 e a chi la fa ascoltare per prima Puccini ovviamente alle monache e a sua sorella e vi leggo questo racconto molto divertente molto ironico come solo Puccini fa fare Puccini fa portare il pianoforte al convento suona l'opera e poi racconta raccontai loro con incerta trepidazione e con tutte le precauzioni e le delicate sfumature ispirate dall'ambiente e dall'uditorio l'intreccio alquanto scabroso del libretto erano tutte attente tutte commosse e con qualche lacrimucce esclamavano con punte timide ma sincere poverina poverina come fu disgraziata dio misericordioso certo l'ha colta in cielo e le ha perdonato cattiva quella zia così dura o la mamma che non ha veduto il suo bimbo prima che quello morisse si direbbe quasi che le anime dei bimbi indugino a volare in paradiso se non ricevono prima il bacio della loro mamma ed altri frasi tenere e commoventi io credevo che si scandalizzassero e che mi venissero fuori con qualche uscita di stupore mi aspettavo anzi con riservo di quelle anime pure e timide un qualche cosa che sapesse di rimprovero o di riprovazione per il troppo ardimento dell'intreccio invece trovai soltanto della pietà della generosa simpatia cristiana aulente di verace ed edificante sentimento religioso e quando finalmente mi congedai le monachine mi fecero ala ed arrivato in fondo alla scala volsi lo sguardo e le vidi tutte in fila in una spontanea disposizione scenografica tutta vivezza ed espressione quale nessun coreografo sarebbe mai capace di immaginare e le nostre care coriste e ballerine Dio mi perdoni la profanazione tanto meno di eseguire dopo diciamo così questa benedizione delle suore del convento della sorella Puccini fa mettere in scena l'opera che debutta al Metropolitan il 14 dicembre del 1918 con Gerardin Farrar come protagonista e poi a Roma arriverà invece nel 1919 con Gilda Dallarizza qual è la particolarità di Suora Angelica? Abbiamo 15 personaggi femminili non c'è nessun personaggio maschile soltanto nel coro finale quello del Miracolo ci sarà un coro misto cioè di voci maschili e femminili il parallelo è quello con un'altra opera poco conosciuta e poco eseguita di Masné che è Le Jongleur de Notre Dame nel quale invece i personaggi anche qui si svolge in un convento i personaggi sono tutti maschili e anche nell'opera di Masné che spesso viene citata come parallelo a quella di Puccini c'è un miracolo nel senso che appunto questo Jongleur di Notre Dame questo giocoliere fa una sorta di gioco davanti alla Madonna e la Madonna compie per lui un miracolo quindi il parallelo è un ambiente solo femminile e solo maschile e anche qui un miracolo Suor Angelica è un atto unico diviso in sette episodi giustamente Michele Girardi grande studioso picciniano li chiama sette stazioni della via Crucis che sono la preghiera le punizioni la ricreazione il ritorno dalla cerca la zia principessa la grazia e il miracolo noi ascoltiamo quello che è il cuore di Suor Angelica ovvero l'incontro tra Suor Angelica e la zia principessa prima di ascoltarlo però vi racconto brevemente che cosa succede la Suor Angelica è Mirella Freni e la zia principessa è Elena Suliotis Suor Angelica è la storia di questa ragazza che da sette anni è rinchiusa in questo convento per espiare una colpa la colpa di Suor Angelica è quella di aver avuto un bambino senza essere sposata il bambino lei è stato tolto appena nato e lei è stata Suor Angelica e nobile rinchiusa in questo convento sono sette anni che Suor Angelica non ha notizie né del bambino né della sua famiglia e dopo una prima parte dell'opera quella più accusata di bozzettismo nella quale Puccini dà l'atmosfera di questo convento c'è la Suora che rimpiange che faceva prima la pastore che rimpiange di non aver più potuto toccare un agnellino ci sono le Suore che vengono punite perché una aveva nascosto le rose durante la messa due avevano fatto ridere le altre quindi vengono punite quindi tutti i piccoli bozzetti di quello che succede in questo convento e il personaggio di Suora Angelica è molto esperta diciamo così di erbe e di fiori c'è una suora che è stata punta dalle vespe e Suora Angelica le dà delle erbe per poter fare un guento per curarla e poi l'ansia di Suora Angelica perché le han detto che è arrivato c'è una portantina fuori è arrivato qualcuno in parlatorio il libretto dice che la vicenda si svolge nel 1600 è l'incontro con questa zia principessa la zia principessa è il ruolo da contralto più importante che Puccini abbia scritto perché insomma per gli altri contralti non ha mai scritto un ruolo così importante ed è una della scena delle crudeltà più forti di tutto il teatro pucciniano allora voi immaginate questa ragazza che per sette anni non ha avuto notizie della famiglia e che riceve la visita di questa zia che come se fosse un bollettino meteorologico comincia dicendo il principe Gualtiero vostro padre la principessa Clara vostra madre alla loro morte hanno lasciato a me il compito di occuparmi dei finghi di te e dei tuoi fratelli e delle tue sorelle io mi occupo dell'eredità tua sorella si sposa devi firmare questo documento per la divisione del patrimonio così non ciao come stai stai bene niente così dopodiché sua angelica disperata chiede a questa zia che definisce inesorabile e questa zia le dice che sua angelica deve solo pensare ad espiare espiare la parola che ripete la zia chiede notizie di questo bambino bambino che ha visto una sola volta chiede come è cresciuto come sono gli occhi di questo bambino com'è il suo volto e la zia anche qui con una freddezza incredibile si gira e le dice due anni fa si è ammalato gravamente e si ferma e sua angelica molto spesso si fanno i paralleli tra sua angelica e madama butterfly i paralleli sono due mamme due mamme che amano alla follia del loro bambino due mamme che si suicidano due mamme che hanno due incontri fondamentali butterfly con sharpless che le legge la lettera sua angelica con la zia principessa la differenza è che l'incontro e il racconto di sharpless è un raccolto delicatissimo perché sharpless anche se deve dirle delle cose terribili è delicatissimo mentre invece la zia principessa è crudelissima come butterfly nell'ultimo atto quando chiede a suzuki perché pinkerton non c'è chiede se è morto chiede se è arrivato anche qui sua angelica ha questo bollettino medico della zia che dice due anni fa si è ammalato gravemente abbiamo fatto di tutto per salvarlo e lei dice è morto e la zia fa si con la testa e a questo punto sua angelica lancia un urlo dicevo una scena crudelissima una scena che Puccini riesce a disegnare in maniera straordinaria è una scena un po' come la tortura di Scarpia cioè la zia principessa è come Scarpia è come Turandotto cioè sono i due personaggi di gelo di fronte a una mamma che soffre lo scarto di sua angelica è se nei primi venti minuti dell'opera è una suora dopo questo duetto è tornata ed è una madre ed è quello che poi la porterà alla morte abbiamo perso un po' di tempo tra i problemi tecnici però questo duetto dura undici minuti se resistete vale la pena di ascoltarlo ripeto Mirella Freni e Elena Suliotis comincia appunto con questo bollettino il principe gualtiero vostro padre è la traccia 7 grazie come avete sentito i paralleli con la butterfly ci sono sua angelica ripete 15 volte il termine fingio mio quando chiede alla zia di avere notizie sottolineano molti critici che ci sono due strumenti che ci fanno capire quando Puccini sta delineando un cattivo sono i violoncelli e i contrabbassi Scarpia è accompagnato da violoncelli e contrabbassi Jack Ranks è accompagnato da violoncelli e contrabbassi la zia principessa è accompagnata da violoncelli e contrabbassi la didascalia di quest'ultima frase della zia che poi non dirà altro dice freddamente quando dà la notizia della malattia del bambino la cosa ancora più crudele e lo spiega la didascalia non è invenzione di registi e che appunto sua angelica si accascia addolorata e schiacciata da questa notizia e quindi non ha ancora firmato l'atto che la zia le ha chiesto e quindi viene sollevata da altre due suore le mettono a forza la penna nella mano per farla firmare la zia prende il documento e va via non c'è nessun tipo di commozione lo scarto come dicevo è appunto sua angelica e mamma e il suo essere mamma era quello che la teneva in vita morto il bambino non ha più motivo di continuare a vivere quindi sceglierà quei fiori e quelle erbe che prima erano servite per lenire un dolore per uccidersi un minuto ancora solo per dirvi che la conclusione di sua angelica è il famoso e tanto discusso miracolo nel senso che sua angelica dopo aver cantato subito dopo questo duetto la celebra aria senza mamma prepara appunto questo infuso velenoso per uccidersi dopo aver bevuto questo infuso capisce che morirà in peccato di dio perché il suicidio è un peccato e quindi chiede alla madonna di salvarla le voci chieste da Puccini a don Pietro Panichelli intonano un inno alla vergine la chiesa si illumina è illuminata da un raggio dorato e sua angelica muore vedendo un bambino che si avvicina a lei molti critici scrissero che questo era un miracolo di cartapesta scrissero che sua angelica era soprattutto i critici americani scrissero che sua angelica era una cartolina di natale e non era come dire un'opera reale in realtà Puccini teneva moltissimo a sua angelica e quindi era molto adorato da queste critiche diceva che delle tre del trittico era quella alla quale teneva di più e a proposito del miracolo ci sono delle lunghe descrizioni per la messa in scena romana nella quale lui dice deve essere chiaro che il bambino che va verso sua angelica e suo figlio non è Gesù perché non è la Madonna che accompagna Gesù bambino verso sua angelica ma è il bambino e sua angelica è un'allucinazione prima della morte è un suo è un desiderio di raggiungere il bambino in paradiso Puccini non lo spiega noi non lo sappiamo spiegare però questo è il miracolo finale che succede Puccini dicevo era stato molto chiaro su come doveva essere messa in scena questa quest'opera nella prima parte dell'opera c'è la fontana d'oro quello che viene chiamato anche lì il miracolo della fontana d'oro le suore escono dalla chiesa e la fontana che c'è nel cortile è illuminata dai raggi del sole e le suore dicono soltanto tre volte l'anno noi vediamo questo miracolo perché o usciamo troppo presto o usciamo troppo tardi e Puccini aveva chiesto che venisse messa della polvere d'oro nell'acqua nel palcoscenico per far vedere questo miracolo questo per dire come sua angelica sia strettamente legata al tempo si ripete sempre sono passati sette anni è passato un anno dall'ultima volta che abbiamo visto la fontana d'oro cioè questa oppressione diciamo così del tempo c'è che è una cosa che caratterizza un po' tutto il trittico il tabarro è sempre tutto al tempo passato i due sposi infelici pensano quando c'era il bambino quando eravamo felici sua angelica anche a questa sessione del tempo l'unica diciamo così del trittico libera è Gianni Schicchi l'abbinamento ripeto e concludiamo come avevamo incominciato secondo me dopo aver visto Goyescas fa un certo effetto ascoltare e vedere sua angelica una cosa che unisce anche queste due opere che forse sono state diciamo così un po' dimenticate e un po' neglette sicuramente del trittico sua angelica è quella che ha avuto le recensioni meno illuminanti in America quando poi è stata presentata a Roma invece per molti era una scoperta di come Puccini fosse riuscito a raccontare questo piccolo mondo nel quale non abbiamo avuto il tempo di farlo ma se avrete l'interesse di leggere il libretto ci sono molti riferimenti manzoniani ci sono molti riferimenti a Pascoli ci sono molti precisi riferimenti all'uso delle erbe all'uso religioso quindi proprio una capacità di Puccini di descrivere quest'atmosfera molto bene io spero che questo dittico faccia sì che queste due operano entrino in repertorio come tante altre ma che possano avere sui palcoscenici una vita più frequente di quella che ci sia siamo riusciti grazie Simone e grazie ai tecnici nonostante un audio cattivo a farvi ascoltare quello che volevo rimane la suspense di Besame Muccio ma insomma quella potete ascoltarla grazie non so se è miracolo o allucinazione quella di Suor Angelica ma il miracolo che ha fatto oggi Susanna Franchi sicuramente è sicuro quindi tre grazie per la chiarezza per essere riuscita a condensare tutto in un'ora e mezza e anche per aver saputo venire incontro ai me ai disguidi tecnici l'allestimento che vi ricordo porta la firma di Andrea De Rosa si avvale anche della presenza di un balletto che è impegnato certamente nelle danze in Goyescas e che ha un ruolo di rilievo anche da punto di vista mimico teatrale in Suor Angelica per l'ambientazione particolare che ha scelto il regista l'opera in scena da domani fino al 25 diretta da Donato Renzetti per cui un buon divertimento alla prossima buonasera grazie 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 grazie